Allora, Massimo, un'altra delizia è un formato di pasta particolare che io non avevo ancora visto. Allora, come si chiama questo piatto o questo formato di pasta? Questo piatto è un classico dei classici, nei ristoranti a base di pesce non manca mai, è lo scoglio. In questo caso la pasta abbinata sono gli stracinati, che è una sorta di orecchietta allungata ed è una pasta veramente che mantiene la cottura e si lega benissimo con il sughetto. In questo caso anche abbiamo il pomodoro caldito, che dà questa particolarità di avere uno scoglio macchiato, non carico di pomodoro, dove possiamo quindi esaltare il gusto del singolo pesce. Anche questo piatto è un piatto che sicuramente andrà tantissimo. E questo è il tocco finale? È un piatto che assaggerai. Assaggerò, assaggerò, è sacrificio.